Si conclude con la consegna degli attestati il corso d'inglese organizzato dall'amministrazione comunale di Scalea e Levante, associazione di promozione sociale. Il corso, tenuto da Stella Frost, insegnante madrelingua che ha reso le lezioni divertenti e interattive, si è tenuto nella sala polifunzionale del comune di Scalea e si è protratto per diversi mesi con una lezione settimanale di circa un'ora. È stata un'esperienza bellissima, è stato uno scambio per me e loro mi hanno dato tanto e io ho dato tanto a loro e li ringrazio tanto per la costanza e per il fatto che sono sempre stati qui a imparare insieme, è stato bellissimo. È stata una bella esperienza, penso che la gente che ha partecipato si è divertita, ha imparato qualcosa di utile. Io ci tengo a ringraziare la teacher Stella Frost e l'associazione Levante che ci ha supportato nell'organizzazione di questo corso d'inglese zero, edizione zero. Tante cose sono da migliorare, da rivedere, ma lo spirito era quello di poter offrire un momento di comunità, con sullo sfondo la voglia, la necessità di imparare un po' di lingua inglese che è la lingua universale. Credo dalla partecipazione che ci siamo riusciti e anche dalla soddisfazione di tutte le persone che hanno partecipato. Prossimo corso magari serale? Prossimo corso vediamo, perché organizzare non è facile, nel senso che rischi sempre di scontentare qualcuno. Io credo che quando c'è un'opportunità bisogna cercare di coglierla a prescindere, al di là del fatto che possa essere più funzionale, farlo di sera, di pomeriggio piuttosto che di mattina. Però abbiamo fatto un'ora di lezione a settimana, quindi diciamo che forse con un po' di sforzo si poteva ottenere qualche beneficio, ma non solo perché era un corso gratuito, perché era un momento anche per stare insieme, confrontarsi e fare comunità, che è una cosa importante. Ogni occasione di incontro, ogni occasione per stare insieme, secondo me va sfruttata al massimo. Se poi c'è anche il vantaggio di apprendere un po' di lingua inglese, allora tanto meglio, però sicuramente potremmo valutare di trovare altre formule, lo valuteremo senz'altro e sperando che sia ancora più partecipato.